Allora signori, finalmente, finalmente, oggi ce lo possiamo provare in versione definitiva Contrabant Police. Come detto, l'avevamo visto, simulatore che avevamo visto veramente tanto, tanto tempo fa e ci era piaciuto, a me era piaciuto veramente tanto. Dal nome potete ben capire che, insomma, bisogna fermare un attimino questo contrabbando alla dogana, c'erano robe strane, robe molto particolari. Ok, proviamo, partiamo e fademi sap se il gioco fu un'onsia o se la live esplode. Noi, vedi, guarda come, guarda la signora che è stata arrestata perché portava i pomodori oltre confine. Non si fa, non si fa, no, no. E hanno trovato solo i pomodori, chissà dove aveva messo le zucchine. Per dire. Scusa, scusa, premi un tasto per continuare. No, pensavo stesse ancora... È una fiction letteraria, attenzione. Il gioco è ispirato alla realtà, ma qualsiasi somiglianza non autorizzata con eventi reali o persone ci stanno a paracchicure. Insomma, noi abbiamo fatto una fiction, se poi becchiamo uno, nome, cognome, giusto, preciso, occhio. Valico di frontiera di Caricata, a Caristan. Che è 1981, che ha detto? Attenzione, siamo un po' appisolati. Siamo per arrivare, eh? Per il momento sembra che non esplode, eh? Giusto. Sembra andare bene. Oh. Cioè, aspetta. Ma non gli aiuti a... Erano in panne. Complimenti. Che fine ha fatto? Ah, si è fatto corrompere, eh? Si è fatto corrompere. Eccoci al nostro posto di lavoro. Posto di front... No, posso ora portare a Gvarish, commissar. Popovzia. Popovzia. Arrivederci, caro. Si può dire Popovzia? Non è che ti ho offeso la nonna? E... Va bene. Eh... Scendiamo. Allora. Abbiamo lasciato comunque delle persone lì in fondo. Allora, il gioco visivamente sembra anche fatto molto bene. Dettaglio alto. Il PC sembra che non stia esplodendo. Il veicolo sembra molto sportiveggiante. E il nostro primo di lavoro c'è. 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 Il lavoro c'è. Bisogna vedere se noi siamo all'altezza. Possiamo... Lei chi è? Lei lavora qui? Salve. Agente Repnin. È un meccanico. Salve. Tutto bene? Vabbè, niente. Mi volevo presentare. Comunque. Arrivederci, eh. Arrivederci. È stato un piacere. Ma... Dove... Aspetta, mi basso un po' il volume. Grazie, Mamurra. Grazie per i 23. Grazie mille. Grazie mille. Posso... Ma devo scavalca? Come cazzo funziona? Scavalco? Ma scusa. Ma una porta per gli impiegati non ce l'hanno a sto posto? Sottotitoli ve li leggete, sì. Capitolo 1. Introduzione. Piacere. Salve, salve. Si vede proprio che è un posto di lavoro tranquillo, eh. Vabbè, comunque andiamo a prendere la cartellina, va. Welcome to Akaristan. Comunque io mi ricordo, quando lo provammo nel prologo, già era... Per quello pensavo che uscisse prima, perché già il prologo era fatto bene. Cioè era... Cioè, pensavo fosse un gioco che stava lì per uscire. È passato un anno e passa. Non mi ricordo. Vi ricordate quando l'avevamo giocato? Allora, la cartella di servizio e la torcia. Allora, la cosa che copre la cam sono i soldi. Che, ve lo dico io, sono zero. 18 gennaio 2021. Cazzo, due anni sono passati. Attenzione, attenzione. Sì, più o meno tipo Paper Please. Un po'... Un po' più simulatore... No, trash, però nel senso c'è gente che passa qua, droga, le armi. Sotto i sedili, dobbiamo aprire le cose. Vedrete, vedrete. Ci sarà da divertirsi. Allora, abbiamo... Controllo di frontiera. Manuale di servizio. Siamo al 16 aprile del 1981. Nostro primo giorno di lavoro. Dai! Allora, controllo dei documenti. Nome e cognome. Data di scadenza. Numero del passaporto. E fotografia. Per il momento partiamo così. Nome e cognome. Questo campo... E qua è scritto un po' piccolo. Però, vabbè, la parte che non vedete la leggo io. Tanto qualcosa per forza la cammo di opere. Allora, di scadenza. Questo campo compare sul passaporto. I valori riportati devono essere... Ok. Vabbè, sì. Ci sta. Dobbiamo vedere un attimino... Se è uguale il documento. I valori riportati devono essere identici su tutti i documenti. Va bene. Stessa cosa per il passaporto. Visto d'ingresso e la carta d'identità. Confrontalo con il calendario e accertati che i documenti non siano scaduti. Onesto. Grazie, Valbos. Grazie per il 33. Grazie mille. Poi. Numero del passaporto. Questo numero... Campo compare sul passaporto. Sul visto d'ingresso e sulla carta d'identità. Quindi, triplo controllo. La fotografia. Vabbè, dobbiamo vedere che è lui e non è... Qualcun altro. E queste sono le zone. Ecco. Akaristan. La Repubblica Popolare dell'Akaristan è un paese famoso per i suoi ricchi giacimenti minerari e l'industria metallurgica. La maggior parte della popolazione vive nelle fertili aree occidentali. Vabbè, il governo... Poi dobbiamo vedere, vabbè, le varie... Vedi, i timbri ufficiali sono questi. Ogni zona ha diversi timbri. Vabbè, io penso che questo me lo faccia comunque usare mentre io faccio i controlli, no? Adesso no, chi cazzo se ne ricorda... Arriva il primo... Ciao, caro. Agente Novik. Ammazza che voglia di lavorare, eh. Non te preoccupai con calma tanto. Oh, la porta! Attenzione! Madonna, la voglia di lavorare. Però almeno... Scusa, guardiamo dove stiamo andando. E già finisce così, in infermeria. Onesto. Va bene. Grazie, Orax! Grazie per i 40! Grazie mille! Controlliamo, controlliamo. Ha fatto malissimo comunque quell'uomo, eh. Prego, prego, venga! Che è la 131? Guarda la 126! Grande! A te ti faccio passare, non ti preoccupare. Tu passi la Lada Niva. Sti giochi simulatori ci hanno sempre veicoli alto locati, eh. Scusa, sei a DZL valibni documenti. Proficie Geno, Casasnaia, Sienkato. Arrivo, arrivo. Allora, grazie mille a Marco. Grazie per la donation, Marco. Grazie di cuore. Finalmente quando ho voluto una piccola donation, è d'obbligo. Grazie, grazie caro. Tutto bene, tutto bene. Tra l'altro qui si beve, eh. Ma non vorrei dire niente, ma si beve, si fuma e sempre passa il tempo. Grazie anche ad Obama. Aspetta che mi sono perso. Obama Senpai per i due mesozi. Grazie Obama. Grazie mille per i due mesozi. E un sulle mani per Andrea, 77 per le 5. Savone, giftate sulle mani per Andrea. Grazie Andrea, gentilissimo come sempre. Grazie di cuore. E ragazzuoli, mi raccomando, ringraziate il buon Andrea che vi ha gentilmente giftato la sub. Ciao caro straniero. Lei è straniero e quindi già partiamo male, eh. Mi dite i documenti? Posso avere i suoi documenti? Sì. Sì. Allora. Grazie anche a Baronex per i sei. Tutto bene, tutto bene Baronex. Grazie per il mezzo anno e grazie mille a Giorgio per i sedici. Grazie cari, grazie mille. Allora, il signor Valenti Mikhailov. È giusto, il nome e cognome ce l'ha. Ah, devo pure cliccare, così me lo... Confronto tra i documenti. Il confronto tra i campioni dei documenti riduce il livello di... Allora. Il confronto tra i campioni dei documenti riduce il livello di percezione. Ah, questo qui. Quindi se lo usiamo più volte ci cala quella bar. Ok, quindi se siamo convinti magari non clicchiamo. Quando ci si stanca i confronti diventano più lenti e quando il livello scende a zero rimane solo il controllo visivo. Ah, della serie non possiamo fare niente. Vabbè. Per rigenerare la percezione vai a riposare. Prendi in considerazione l'acquisto di un alloggio migliore per aumentare in modo permanente il tuo livello di percezione. Bellissimo. Livello di percezione è alto, siamo sveglissimi. Livello di percezione è basso, livello di percezione è esausto. Collassiamo direttamente sul posto di lavoro. Onesto. Corrisponde, i dati del conducente sono corretti. Non corrisponde, questo conducente non è autorizzato ad entrare nel paese. I campi sono di tipi diversi, ok? Confrontare la data di nascita con il calendario per efficare l'età del guidatore. Però io il confronto lo devo fare per forza perché li devo far diventare tutti verdi. Ok. Credo, eh. Rapporto di spezione. Allora, il numero di passaporto è questo ed è uguale. Io ad esempio devo per rapporto di spezione... Allora, in questo rapporto verranno segnalate le eventuali discrepanze. Riscontrate nei documenti. Segna almeno un errore prima di respingere un contugente o lascia un rapporto pulito quando concedi l'ingresso. Ok, quindi non segniamo niente. Grazie l'indeggerrimo! Noè per lì sei mesi. Grazie mille. Grazie di cuore per l'arresa. Ma anche qui siamo indeggermi, eh. Pulito, ok. Trova tutti i problemi esistenti per ottenere il punteggio più alto. Con il tempo, con il tempo tempo, il tuo rapporto si arricchirà di ulteriori rubriche. Vabbè, nome e cognome è giusto. Quindi, confronta con il visto d'ingresso, la carta del cittadino, la lettura, la lettera di vettura, la carta di circolazione. Allora mi sa che dobbiamo comunque cliccare. Cioè, della serie. Devo fare per forza così. Corrisponde e non segno niente. Vabbè. È valido fino al 18 maggio dell'81. Siamo ad aprile e ci siamo. Il codice questo è uguale, quindi ci siamo. Io non vado a cliccare. Data di nascita, 12 agosto 1940. Vabbè, non c'è scritta l'età. Data di scadenza, 30 aprile dell'81, quindi ci siamo. La fotografia, vabbè, ce n'abbiamo una sola. L'unica cosa che posso vedere è il timbro che deve essere di Akaristan. Di conseguenza vado a vedere... Dove stava? Dopo la fotografia. Il timbro di Akaristan... Allora... Cioè, questo è doppio... Allora, questo è questo. Questo qua mi sembra eccessivo, no? E quindi in questo caso io provo a fare un confronto... No, non posso fare il confronto. Mo' per dire, questo è ufficiale o non è ufficiale? È, all'atto pratico, paro ufficiale. È un timbro, ma è diverso da quei timbri che ci danno a noi, quindi... Cioè, i timbri sono col... Cerchio semplice come questo... Con l'esagono o il quadrato. Cioè, pare ufficiale, ma in realtà non rientra tra queste tre opzioni. Lo prendiamo per buono? Vedi, guarda qua. Tipo questo qua, il doppio cerchio ce lo segna. Vedi, già ti mette in difficoltà. Allora sei stronzo. Vabbè, in linea teorica... Corrisponde. La validità la vediamo direttamente dalla data, quindi va bene. La data di nascita possiamo vederla qua. 40 anni. Questo per vedere un po' tipo la faccia, per capire se magari è giusto. La scadenza pure ci sta. E vabbè, per me pare che è giusto. Quindi, come... Che famo? Ieri ridò? Lo facciamo entrare? E fammolo entrare? Mo c'è il resto. Controllo concluso, abbiamo finito. Vediamo. Oh, stai calmo, biondo. Grazie Simodax, grazie per i 26. Vediamo, vediamo. Tanto ce lo dicono appena esce. Ah, ok. Rischio, signori, rischio. C'era il riepilogo dell'ispezione. Questo è giusto. Possibile risultato del confronto. Dati corretti. Errore, segnalato. Ah, questo è quello che ci fa vedere quando ci fa il riepilogo. Vabbè, in questo caso l'abbiamo fatto bene, quindi... Allora. Quando i dati sono corretti è così. Quando un errore l'abbiamo segnalato è così. Ed è giusto. Quindi, i blu sono quelli giusti. Quelli rossi sono... Così, errore non segnalato. Casella non selezionata correttamente. Ok. Vabbè, noi questo abbiamo fatto tutto bene e ci ha dato 100 dollaroni. Va bene, facciamo entrare il prossimo, va. Attenzione, la 126. Vai, vai. E il primo ce lo siamo sbancati, eh, signori. Venga, venga. Fammi sentire il sound. Madonna, guarda pure l'alettone c'ha. Bravissimo. Che uomo, che uomo. Ma questo... Questa spinge, eh. Questa spinge, di la verità. Guarda qua, l'alettone, questa è tutta aerodinamica. E che cazzo te lo dico a fare? Straniero, mi dia i documenti, va. È necessario sì, se no che cazzo ti stiamo a fare qua? È lavoro mio. Stia calmo. Allora. Erai Yakubov. Erai... Ah, ah, ah. Qui è Yegubov. E qua è Yakubov. Biondo. Eh, eh, eh. Arrestate. È uno, è uno. LCL. E va bene. Quattro RTL. E questo va bene. Nazionalità. Regno di Erkei. Eh, Erkei. Mi faccio vedere... Allora, prima di tutto... Il nome... Ah, vedi? Te lo segna già da... Da suo. Questo viene dal regno di Erkei. Però, scusa, ma... Non mi aveva detto che veniva dalla... Dalla Karistan. Repubblica. I... Ah, tol... No, perché poi ci aveva... Credo che c'erano delle sottoregioni, tipo, mi ricordo, dal... No, Regno di Erkei è questo. Allora, il simbolo ce l'abbiamo. Questo no. Questo è palesemente falso. Cos'è questo? Però, aspetta. Il visto di ingresso è che... Vabbè, non dobbiamo neanche controllarlo. Però questo qua è un po' problematico. A parte che ha sbagliato il nome e cognome. Cioè, posso capire che tu sbagli qualcos'altro. Ma nome e cognome credo che siano... Eh, insomma, insomma. Un po' più da tenere in considerazione. Altro punto da tenere in considerazione è il fatto che... Secondo... Dovrebbe avere 57 anni e ci può stare. Ma, di certo, la scadenza... Non va bene. Il numero di passaporto... Però, vedi, se io non lo segno, non mi... Il numero di passaporto, però, era giusto. Motivo lavoro, valido fino al 20 agosto. Sì, ma comunque questo va arrestato. Cioè, va arrestato. Ui, madonna. Mo lo facciamo aspettare un'ora e mezza. Guarda. Tanto che... Tanto... Noi qua stiamo. Qua stiamo a lavorare. Non è che dobbiamo andare da qualche parte. Comunque... Ehm... È sbagliato pure questo. Però, apparentemente, non ce lo fa segnare. Quindi, non... In questa fase, probabilmente, non dobbiamo controllarlo. Eh, vabbè, Giovano. Abbiamo finito. Le va di dar cazzo. Va, fa... Fa inversione, va. Tiralo. Tira, fammi vedere. Fammi sentire il sound. Taglie. Attenzione, però. Guardalo. Bravissimo. Alla prossima, eh. Magari la prossima volta scrivi bene il nome. La coglione. Ispezione perfetta. Bravi tutti. Bravi tutti. Ma che ne sanno questi? Che ne sanno? Dove sta il... Si è fatto notte nel mento. Aspetta, abbiamo pure... Attenzione, la ladaniva. Eccolo. Ma scusi. Ma l'ha tagliata lei o gliel'hanno tagliata di proposito? Come funziona? Ma... C'ho la torcia. Madonna, pure i raggi UV. Almeno vediamo se tipo... Lascia fare. Allora. Straniero, mi dia i documenti, va. Grazie, mister Ale. Grazie per i 44. Eccolo. Stia calmo, biondo. Ma ti aspetta una cosa? Vabbè, comunque. Controlliamo. Allora, Rasim... Rasim... E c'è. Curema. Curema ce l'abbiamo. Bravissimo. 9 ABX è lui. 1 Z18. Bravissimo. 31 agosto dell'81. Vabbè, la scadenza. Questo motivo turismo. Cazzo di turismo fai. Comunque. Eh... Data di nascita del 42. Ce può sta. 3 settembre. Va bene. Eh... Questo viene dall'unione di Rally. Che però... Comunque non lo posso segnare. Quindi, linea teorica... Eh... Allora, il simboletto... È questo. È giusto. Questo qua non ho capito se praticamente è perché loro stanno entrando qui e quindi gli emetti sto baiocco. Visto d'ingresso penso di sì perché loro stanno entrando qua. Quindi al visto d'ingresso dovrebbe sempre starci questo. O sbaglio. Comunque turismo. No, lui pare... Pare giusto, no? Pare... Unione. Pare... Bravo. Complimenti. Complimenti per la scelta turistica soprattutto, eh. Devo dire la verità. Arrivederci, arrivederci. Eh sì, il visto d'ingresso credo che io lo lasciamo noi e... Quindi c'ha... C'ha quello, no? Vediamo se abbiamo sbagliato. Riepilo controllo. Ispezione perfetta. Bravi tutti. Ma questo che è, eh? Scusa, è pure per capire che me sta... La posta? Più il giornale? Attenzione! Giovedì 16 aprile è collaborazione scoperta. Nicolai Roznikov. Ah, quello che ci aveva detto all'inizio. Comandante della polizia di frontiera di Caricatta. È stato accusato di collaborare con una banda di contrabbandieri ed è stato condannato a dieci anni di lavori forzati per alto tradimento. La procura ha iniziato un'indagine in merito alla corruzione tra i funzionari di polizia. Altri sei collaboratori di Roznikov sono sotto interrogatorio. È stato funzionario della guardia? Ok. Il governo distribuisce alloggi. Questo, ehm... Insomma, per dire. Parte la grande lotteria degli alloggi. Partecipate all'estrazione e vincete un appartamento di lusso nel cuore della capitale. Ho dei dubbi sia sul appartamento di lusso, non credo, eh. Però il costo del biglietto è di soli 100 dollari. Sti cazzi non ci lo metti. Eccessivo. Vabbè, comunque, avanti la prossima, avanti la prossima. Pronti, pronti, pronti. Venga, venga. Eh, tutte auto di un certo livello qui. Ce la fai che ti do dà una spinta? Ammazza. Ma no... Oh, fermate un po'. Ma non ho capito. È troppo lungo il tergicristallo? O il tergicristallo... Ah, no. La cosa dell'unotto e poi diventa antenna per la radio. Hanno risparmiato. Hanno fatto un tutt'uno. Vabbè, straniero. Mi dia anche lei dei documenti e vediamo. Eccomi. Se sta fanotte, eh. Allora. Ezziz Amiri. Ezziz Amiri, pare lui. 7AG. 7IG. E già... E qua andiamo in gattabuia. 31 marzo dell'81 e stiamo ad aprile. E quindi va bene. 28 settembre. Vabbè, questo non ce ne frega un cazzo. E vabbè, già lo possiamo buttare fuori comunque. Questo viene da Albarac. Dalla Barac. La Barac? Che tipo di... Albarac? No, bravo, bravo. Quello l'hai fatto bene. Hai fatto bene il disegnino, ma hai sbagliato il numero. Quindi mi spiace, ma ti attacca il cazzo. È biondo. Nome e cognome Ziz Amiri. È giusto. È giusto. Per il resto... Te ne parla a fanculo, va. Beh, è una buona media ci abbiamo. Teppiate sto coso. Arripiate i documenti. Ciao caro, ciao. Grazie, Giorgetto. Grazie per i 21. Grazie mille. Vada, vada. Ci rivediamo alla prossima, eh. Occhio al freno a mano lì, eh. Attenzione con le manovre. Bravissimo. Bravissimo. Guidi con prudenza, eh. Ma che se può lavorare così, dai, eh. Aspetta. L'autista non so... C'ho sbagliato? Fotografia. Cazzo, la fotografia non l'ho proprio vista. Era la fotografia? Era diverso? Gua, vi giuro, la fotografia non l'ho proprio vista di striccio. Eh, non è uscita perfetta. Non ci ho fatto caso. Vado a riposare? Va bene. Quello è il nostro alloggio? Sti cazzi degli alloggi a gratis, eh. Bravissimi. Non ci ho proprio fatto caso che era... Che non era lui. È perché poi controllo i documenti, che cazzo. E dove dormo io? Ma cos'è questa roba? Ma come faccio a riposare qui? È un letto? È un letto. Scusi? Maschio. Lei! Dica! No, no, no. Senta! Eeeh. Vabbè. Niente. Lui dirà. Eh, scusa, io non c'ho manco... Manca la roulotte. Questo dorme qua. Almeno accenda la tv. Gliela accendo io? Non funziona, eh? Ecco perché beve. Vabbè, onesto, onesto. Ognuno è il suo. Vabbè, io vado nella mia lussuosissima roulotte, arrivati a sto punto. Onesto, onesto. Siamo... Allora, il sonno rinnova il livello di percezione necessario per confrontare i documenti. Ci vogliono otto ore per recuperare completamente. Onesto, otto ore è quello preciso. Però a me mi servono otto ore, se no non sbarello. Potenzia la tua sede per aumentare in modo permanente la salute massima e il livello di percezione. La salute massima. Che ci serve? Pure la salute. Che faccio meno, no? Giorno 1. Costo giornaliero. Manutenzione degli uffici, manutenzione del veicolo e stipendi. Ma che cazzo li pago io gli stipendi? Ma io sono dipendente, mi scusi? Manutenzione della proprietà. Ma quale proprietà? Ma dica? Ma che se fa così? Eh, ma... Mi sembra eccessivo, no? Cioè la manutenzione della proprietà, famo noi. E poi scusa, retribuzione del personale. Quelli non hanno fatto un cazzo. Almeno lavorassero. Che fa? Faccio tutto io e quelli... Li pago. Che poi 75 dollari, tre persone, insomma. Per carità, eh. Onesto. Non hanno fatto un cazzo. Però abbiamo fatto tutto noi. Quelli diranno per 20 dollari che ti devo pure lavorare. Almeno fai finta. Grazie, Anic. Grazie per i 12. Buon anno. Buon anno. Buona prima candelina. Grazie mille. Non sei quello di ieri? Ah, no, è il vice. Sì. Bravi, bravi. Ognuno è il suo. Mi sembra giusto. Attenzione, il tabellone è informativo. Fermi tutti. Ci sta. E su Steam, penso, già trovate tipo in pre-order. Esce l'otto, credo, quindi. Ehm. Ok. Ok. Sospettiamo che l'autista che ieri non si è fermato per l'ispezione tenterà di attraversare il confine. Numero di targa parziale 6TK. Quindi abbiamo una targa parziale 6TK. Io non lo conosco chi è. Contrabbandiere, uno dei nostri informatori all'interno della banda di Oberankov ha ottenuto informazioni preziose di un altro carico di contrabbando. Età dell'autista 41. Quindi, o uno che ha 41 anni. Noi siamo nell'81. Ok. E o uno che ha la targa 6TK parziale. Ricordate. Cioè, ce lo possiamo pure ricordare. Poi. Aspetta, io lo vedo. Già d'acqua la targa. 6TK. È lui. È lui. È lui. Tu sei contrabbandiere, fio della mignotta. Aspetta tu, eh. Ma fammi arrestare questo. Eh, c'è pure la Station Vagon. Eh, birichino. Eh. Eh, birichino. Si è presentato al Day One, questo. Proprio la mattina appena aperto. Senti, biondo. Ma i documenti glieli chiedo uguale o lo faccio scendere dritto per dritto? Vabbè, intanto fa... No, prima fammi vedere i documenti, sti cazzi. Tanto magari... Allora. A dare... Saue. E qua ci siamo. 8K, 0E, 7X, 7F. 6 dicembre del 50. Ok. 21 settembre. Va bene. Viene 9 luglio. Ok, lavoro. Eh, 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 lavoro, birichino. Che lavoro fa lei? Però i documenti, vedi, si stronzi ce l'hanno a po'. Ma questo è lui. È quest'uomo. Vabbè, comunque. Viene dall'unione di Rali. Unione di Rali. Vedi, il timbro è pure giusto. Guarda, guarda. Buon uomo. Può scendere un attimino? Eh, lascia fare. I documenti però stanno fatti bene. Sì, diciamo che si riporta male i suoi 31 anni, possiamo dirlo. Allora, mettiamo la nostra torcia. Guarda, la vedi la mia torcia? È anche UV. Eh, 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 che cos'è quel serpentello, eh, birbaccione? Eh, sì. Sto cazzo non ce lo metti. Anche in questi luoghi puoi trovare merce di contrabbando. Nel serbatoio, nel... Vabbè, da tutte le parti. Nel motore. Pneumatici, ok. Ci servono degli strumenti, signori. Aspetta, fammi controlla pure se ce l'ha da qualche altra parte, sto simbolo del serpentone, che... Eh? Questo voleva fare il furbo. Motore non si apre. Vabbè, andiamo a prendere gli strumenti, eh. Tu ieri ti sei buscato 20 dollari al ripasso e ne hai fatto un cazzo. Te sei solo spaccata la faccia contro la porta, mi raccomando oggi, eh. Oh, oh. Scusa. Stavo a scherzà. Ma se fa per gioca, no? Ma che se fa così? Ma stava a provà se funzionava. Ma pensavo fosse a salve. Eh, che cazzo. Ma che se fa così? Anche meno, anche meno. Si, 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 ho segnato, ho segnato. Vai, si parte, si parte. Do sta quel figlio della mignota? Porca troia. Una coltellata mia, leva nessuna. Vabbè, però. Sì, 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 ho visto, ho visto. Non è un problema, non è un problema. Ce li abbiamo, ce li abbiamo. Vai, 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 vai. Subito, si parte. Vieni, vieni. A te d'arresto subito, dai, che già lo sappiamo. Ce l'abbiamo, il coltello? Ah, ma non c'è più quello? Se, se è dimesso? Vabbè, scusate, ma voi non avreste provato a vedere se funzionava il coltello? Cioè, è normale amministrazione. Aha! Eh, lui, cioè, però. Salve. Vabbè, io ricontrollo comunque i documenti, perché la faccia è cambiata, quindi. Allora, i documenti sono sempre della stessa persona, comunque. Eh, per dire, questo qua, moi, i 31 anni, se li porta già meglio di quello di prima, eh. Questo lo possiamo dire. Forse avevano sbagliato con la faccia. Sì, sì, ho trovato il serpente. Guarda, beccato! Beccato! Eh, vedi? Non ci sta... Dove? Guarda, si è chiuso dentro. Oh! Abbiondo! Che... Giovanotto! Eh, va, vieni fuori! Che? Eh, cioè, va... Oh! Vabbè, almeno vi ha una boccata d'aria, dai, eh. Puzzate morte là dentro. Comunque. Eh... Sapim! Sapim! Eh, urvadurà, biondo, guarda qua, stupefacenti! Guarda qua come popappa la coca! Viala, viala! Vabbè, smontiamo la macchina. Sotto il cofano, un occhio attento? Noi ci siamo, noi siamo attenti. Beh, magari una torcia però potrebbe... Eccola! Contrabbandona... Sì, ma scusa, ma... Troverai dei camp... Con cattiveria. Grazie Ivanfa, grazie per i 54, grazie mille. Eh... Grazie, grazie. Allora... Eh, poi ci aveva detto anche altre cose. Vabbè, comunque, mi spiace, ma lei va in gattabui, eh. In questi luoghi mi sa che non esce più. Comunque, arrivederci. Eh, ma succede così, eh. Eh, scusa. Facevi il gelataio, se volevi un lavoro onesto. Allora, qui vengono trattenuti criminali in attesa di essere trasportati al campo di lavoro. Beh, migliora il carcere per aumentare la capacità massima. Eh, quanta gente arriva? Non si rivengono a caricare. Comunque, assumi una guardia carceraria per prevenire i tentativi di fuga. Ricorda che lasciando i prigionieri nell'auto della polizia si rischia anche la loro fuga. Ma che cazzo devo assumere? Pure altra gente. Ma quegli altri che non stanno a fare un cazzo? Madonna, gli abbiamo dato pure il pigiamino. E questo non esce più da qua, lo dico io. Questo non esce più. Soprattutto io che ne esco. Ah, però sta... Ah, ok. Forse un giorno, va bene. Allora, quindi qua dentro mettiamo le panette di Gogama. Come ce la metto, però? Ah, qua devo scrivere. Controlla il magazzino. Allora, qui puoi lasciare gli attrezzi, le armi, le merci di contrabbando recuperate, gli articoli da commerciare. Potenzia il magazzino per immagrazzinare più articoli. Ricorda che tutti gli oggetti lasciati alla rinfusa andranno perduti. In che senso lasciati alla rinfusa? Puoi trasferire gli oggetti selezionati dal tuo inventario o direttamente dall'auto della polizia. Trasferimento rapido di elementi tra le finestre, control e clicchi. Vabbè, scusa, io faccio... E mica sta andando a rinfusa. Come cazzo gli faccio a perdere? Scusa, il coltello me lo tengo. Non si sa mai, i tempi... Ehm... Maximov è il meccanico? Sì. Ma... Dove sta quello che stava qua? Giovano! Porca puttana, questo non lavora... Eccolo qua. Ma tu non lavori mai, eh? Senti, me puoi fare un fiam... No? E che devo assumere un secondino per star la gomma? Porca mignotta. Giovanotto! Lei è il meccanico. Qua non lavora un cazzo di nessuno eppure gli stipendi li prendete, eh? Eh, libera la zona dell'ispezione, va. Rottama quel coso. Tanto è un rottame, quindi, almeno. Ha fatto? Bravo. Senza neanche alzarsi. Complimenti. Grazie. Oddio, aspetta. Mi sono perso... Gli oggetti duri vengono frantumati col martello. Lascia. Permette di aprire le casse. Il forcone. Eh, no. Perché non stava a seguista. Stavo... Ok. Che fa il forcone, eh? Andami in Alabama. Prego, prego. Allora, il prossimo deve avere 40 anni, eh? Quindi deve essere nato nel... Ricordiamo, siamo in 81, quindi... 41 e passa la paura. Eh, dammi documenti, va. Le ipotesi da pure più bassi su... Eh, che cazzo. Ah, ah, ah. Questo è nato nel 41, signori. Eh, controlliamo per forza di cose. Tamer Dahai. Ecco, già il nome pure... Eh, Giovanotto. C'è un problema, però, eh? Te lo dico. Babn. Eh... Ce stanno due problemi. Per dire, eh? Valido fino al 18 gennaio. Eh, ce stanno tre problemi. Te lo dico. Eh... C'hai... 40 anni. No, come 39? Ah, no. 15, 9, eh. 41, no? È vero, è vero, è vero. È vero. Li deve ancora compiere, ma comunque... Ne compie 40, non 41. Ehm... Dove... Eh... Ah, 41, 41, ok. Beh, comunque c'è stato un problema... De... De... De cose. Quindi, direi che... Che comunque te ne vai a casa. Eh, non è colpa mia, ma... Eh... Ci sono delle problematiche. No, se i documenti sono... Non li devo controllare il mezzo. Solo se... Ci sono informazioni sul contrabbando. Arrivederci, carissimo. Almeno... Tanto comunque non l'abbiamo fatto... Ispezione perfetta, ok. Non l'abbiamo fatto comunque passare, quindi. Credo che possiamo controllare solo quelli che... Eh... Ci vengono segnalati qui per contrabbando. Altrimenti non possiamo allargarci, mi sembra. Salve. Eh... Documenti. Grazie, mister Hamburgerone. Grazie mille. Grazie per i due. Allora, andiamo a vedere. Allora. Edil... Isakov... Ce l'abbiamo. IHM0MC18, bravissimo. 11 dicembre del 53 e va bene. 7 maggio... Ma sei arrivato pelo pelo. 28 maggio ce l'abbiamo. Turismo. Non si sa per quale motivo. Regno di Erkei. Fammi vedere... Che poi in linea teorica adesso non... Eh no, mi devi andare... Regno di Erkei, mu. Perché qua mo mi dice... Utensi... Allora, aspetta. Fai da una cosa. Utensi, lame, contundenti... Rompono l'esterno di un bel... Le asce, aprono le casse serbatoi, le pale... Sono utilizzate per scavare tra i carichi sciolti... E le forche consentono di cercare tra il fieno... Ah, no, allora... Ah, si usurano pure. Che mi devo pure ricomprare. Spaccamo tutto. Vabbè. Le casse, come è? Barile. I cessi pure. Aia. E questi li vi ammartellate. Allora, Regno di Erkei. Eh, dobbiamo controllare, vedete, che questo... Che poi all'inizio non ce lo segna neanche, però è giusto. Vabbè, questo direi che può andare. Questo è giusto. Comunque, oh, ci stanno di turisti, effettivamente. Bravi, eh. Complimenti. Vada, vada. Lei può entrare. Apparentemente era giusto, ma... Ciao, caro, ciao. Divertiti, eh. Complimenti per la macchina. Il cesso. Per dire. Avanti il prossimo. Spezione perfetta. Eh, eh, eh. Ce n'è rimasto uno, signori. Questo qua, per forza di cose... È nato nel 40? Questa la Daniva? Ciao, giovanotto. Complimenti anche per la maglia. Che stile. Sì, sì. Nel 39. Però, dicembre, quindi... Eh, vediamo... Ah, no, comunque non... Non è necessario neanche fare il controllo così per... Lo possiamo controllare e basta. Eh, 53 MB, 46... 4 dicembre del 39, 18 maggio. Questi sono in regola, però comunque c'è un problema. Allora, questa è la carta del cittadino. E... Vabbè, comunque devi scendere, giovane. Eh, per forza. Allora. Torcina, torcina. Controlliamo un attimo. Eh, il serpentone! L'abbiamo beccato. Allora, prima di tutto, controlliamo pure dietro. Intanto vediamo un attimo. Ah, allora. Il serpentone, il serpentone. Sì, faccio attenzione. Non ti preoccupare. Sapim! 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 Ah, uno solo? Ok. Aspetta, chiudi la porta. Controlliamo un po'. Controlliamo un po'. Ehi. Allora, pa... Eh, aspetta, c'era... Ah, ecco... E non si vedeva un cazzo, però, eh. Eh, allora, nel motore effettivamente ci vuole occhio, come ci aveva detto, eh. Non c'è altro, apparentemente. Le gomme, pure le gomme, dovrebbero segnare. Quindi, linea teorica... Vabbè, tanto ormai... Arrestiamo, quindi... Oh, no? Sta... Sta pagato. Tanta macchina, non arrivi, di biondo. Non ti preoccupa. Eh, lo so, ma succede. Succede, eh. Aspetta, eh. Apri pure qua, che magari qualcosa ce l'ha pure là, no? Ti lascio, ti lascio. Attenzione. Scusa, chiudi un attimo. Va bene, comunque, da resto, eh. Te lo dico. Comunque, a parte tutto... Tutto a posto, eh. Ah, no, aspetta, aspetta. Eh, qua potete nascondere... Eh, ma che ne sai che qua non ci avete messo qualcosa? Può succedere, eh. Può succedere. Voi siete malandrini. Vabbè, tanto questa la dovevano buttare, comunque, la macchina. Mica iari danno. Questo ormai va a finire al gabbio. Ok, chiudiamo la cella. Due di tre. Un atto ce ne può sta qua dentro, eh. Vabbè, li teniamo larghi. Questo sta a pulire. Senti, ma... A parte pulire qua. Mi vuoi andare a controllare quelli, no? No, eh. Eh... Come faccio ad assumere un... Qualcuno che li controlli? Perché... Oh, va bene tutto, però... Allora, fammi mettere qua dentro... Anzze, stiamo carichi? Voi, mi raccomando, eh. Ho contato. Ce ne stanno... Due, quattro, sei, eh. Eh, no. Lascia fare che tu con sta faccia... Due, quattro, sei. Oh, ma erano cinque. Ehi. Cazzo non le sai. Mi devi togliere... Cesso di macchina, qua. Allora, eh... Contrabbando sventato... Ho sbagliato. Aspetta, aspetta, aspetta. Contrabbando trovato due di tre. Luogo in cui è nascosta la merce di contrabbando. Pneumatico posteriore sinistro. Gli ho bucato tre... Bannaggia la buttana. Vedi che ce ne stava un altro in una gomma. Ma perché io pensavo mettessero sempre il simboletto? Quindi, vedi, avevamo fatto bene a sponnatutto. Perché te le può anche non segnare le altre. Vedi, gli dobbiamo bucare pure l'altra gomma. Mortacci sua. Eh, vabbè. Ok. Eh, vedi? Quindi, quando becchiamo qualcuno, la macchina gliela dobbiamo mettere a ferro e fuoco. Oh, una gomma. Porca tua. Vabbè. Sì, però mi devi spiegare io come faccio a comprarmi le cose, qua. E che rovine campo di lavoro. Ok. Noi stiamo qua. Centrale di polizia. Ma poi ci possiamo pure spostare. Come funziona? Vabbè, va. Ok. Un'altra giornata è andata. Un'altra giornata è andata. Beh, c'è da divertirsi qua, eh. C'è da divertirsi, signori. È una figata. Allora, manutenzione. Vabbè, paghiamo sempre noi, ma sta cosa va bene, va bene. Grazie. Grazie.